Carissimi che state ascoltando, oggi parliamo del Regno di Dio, Regno di Dio. Sapete che Gesù, quando predicava e quando mandava a predicare gli altri, diceva sempre una cosa. Predicate il Regno di Dio, il Regno dei Cieli è vicino, è giunto il Regno di Dio. Perché Gesù parlava sempre del Regno, il Regno, il Regno? Perché Matteo 4,17 ci dice che Gesù, quando iniziò il suo ministerio, quando Gesù iniziò a predicare, pensate un po', le prime parole che uscirono dalla bocca di Gesù furono queste. Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire, ravvedetevi perché il Regno dei Cieli è vicino. Le prime parole che uscirono dalla bocca di Gesù durante il suo ministerio su questa terra furono le seguenti. Ravvedetevi perché il Regno dei Cieli è vicino. Che cosa significa? Ravvedersi significa innanzitutto prendere una decisione, cambiare, cambiare direzione, lasciare quello che c'è dietro di noi e abbracciare una nuova vita. Gesù sta dicendo, il Regno dei Cieli è vicino, sta arrivando un regno, sta arrivando un sistema, sta arrivando un nuovo governo, un nuovo ordine di cose. Che cosa vuoi fare? Vuoi seguirmi? Vuoi venire dietro a me? Vuoi entrare a far parte di questo regno meraviglioso? O vuoi restare nel tuo regno? Vuoi restare nel regno di cui tu fai parte? E Gesù dice questo, ravvedetevi. C'è la prima parola di Gesù che è uscita dalla sua bocca. Fu ravvedetevi perché il Regno dei Cieli è vicino. E così tutta la Bibbia termina il Vangelo parlando di questo. Andate per tutto il mondo e predicate il Regno. Regno. Gli Atti degli Apostoli iniziano con Gesù che commissiona questo. E finiscono con Paolo a Roma che predica il Vangelo del Regno. Ovunque nella Bibbia si parla del Regno. Perché Dio vuole che noi regniamo. Da oggi stesso Dio vuole che tu regni. Ed è una parola grossa regnare. Vero? Regnare. Che parola grossa. Mamma mia. Stai dicendo che siamo re? Beh, lo vedremo. È quello che la Bibbia dice. È quello che la Bibbia dice. Versetto 23, sempre di Mattia 4. E Gesù andava attorno per tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoge, predicando... Vedete un po' che cosa predica Gesù? L'Evangelo del Regno. E sanando ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Gesù predicava l'Evangelo del Regno. La buona notizia significa Evangelo del Regno. È qualcosa di meraviglioso, sapete? Perché Gesù è venuto a salvare. Gesù è venuto a perdonare. Gesù è venuto a morire per noi. Gesù è venuto a guarire. Gesù è venuto a liberare dalle catene. Liberare dai demoni. Gesù è venuto a insegnare. Gesù è venuto a predicare. Gesù è venuto a fare tante cose belle. Ma se noi dovessimo sintetizzare in una parola quello che ha fatto Gesù, se io vi dovessi chiedere che cosa ha predicato Gesù? Ognuno di voi vi direbbe una di queste cose. Se io vi dovessi dire che cosa ha predicato Gesù, una parola che riassume tutte queste cose, vi direi Gesù ha predicato il Regno. Il Regno. Perché il Regno significa che c'è un sistema di cose. Ve l'ho appena detto. C'è un ordine di cose che è diverso da quel sistema in cui noi stiamo vivendo. E in quel Regno, in quel sistema, in quell'ordine, in quella dimensione c'è pace, c'è gioia, c'è abbondanza, c'è felicità, c'è guarigione, c'è liberazione. È un Regno di giustizia. Vedetelo. In Romani 14, 17. Vedete cosa dice Paolo? Poiché il Regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Paolo sintetizza che cos'è il Regno di Dio e dice giustizia, cioè tutto ciò che è giusto, tutto ciò che è buono, tutto ciò che è equo. Al contrario di questo mondo, dove c'è ingiustizia, disuguaglianza, c'è povertà, ogni giorno succedono cose tremende, lo vedremo il perché succedono queste cose. E più andiamo avanti, peggio è. E quel mondo invece è un mondo di giustizia. Finalmente regna la giustizia perfetta, quella che neanche i magistrati fanno in questa nazione. Un mondo di pace, un Regno di pace. Come si può tradurre la parola pace, secondo voi? Sapete io come tradurrei la parola pace, il concetto di pace? Il concetto di pace è sazietà. Gesù disse, io sono il pane della vita, chi mangia di me non avrà più fame. E io sono l'acqua della vita, chi beve di me non avrà più sete. Gesù ti sazia. Quando tu incontri Gesù, tutto ciò di cui hai bisogno è finalmente finito. Hai trovato ciò di cui hai bisogno. Non devi andare in cerca di mille cose. Io ho a che fare a volte con persone che si dicono credenti, si dicono cristiane, ma dentro sono vuote. C'è un vuoto. Non si sentono mai contente. Sanno sempre alla ricerca di qualcosa, ma Dio non mi dà questo, poi non mi dà quest'altro, e non capisco cosa c'è che non va. Fratello, ma forse devo essere liberato, forse devo essere guarito, forse devo chissà che cosa. E c'è questo vuoto. Quando viene il regno di Dio, tu hai pace, stai bene, anche se le circostanze intorno a te vanno male. Tu sei in pace. Sei in una circostanza dove tutto ciò che accade intorno a te, come diceva Mary nell'altro video, sei nell'occhio del ciclone. Non importa più niente, tu stai bene, hai trovato finalmente quello che ti mancava. E il regno di Dio, questo è anche pace, è gioia nello Spirito Santo. Il regno di Dio viene per mezzo dello Spirito Santo, lo vedremo, e ti dà gioia. Gioia è questa capacità di affrontare anche qualsiasi situazione negativa, ma sapendo che tutto è nelle mani di Dio, con leggerezza, con spensieratezza, questo significa gioia. Quindi c'è un regno, c'è un ordine di cose che Gesù è venuto a portare. E in quel regno, se tu ti ravvedi, se tu lasci dietro tutta questa spazzatura di quest'altro regno, te la lasci dietro e vai a quel regno di Dio, là incontrerai pace, incontrerai gioia, incontrerai giustizia, incontrerai salvezza, incontrerai lo Spirito Santo, le benedizioni di Dio, la salvezza dell'anima, la guarigione, la liberazione. È un regno. Non è soltanto un concetto. Gesù non è un concetto. Non è venuto a predicare un concetto teologico. Gesù è venuto a predicare un fatto. Gesù è venuto a predicare una realtà. E questa realtà ha un nome, si chiama il regno di Dio. Il regno di Dio. Come se io passassi dall'Italia, passassi la frontiera, me ne andassi in Svizzera, me ne andassi in Austria, in Francia. Cambio. Sistema, cambio. nazione. Gesù è venuto a portare un cambiamento. E se questo cambiamento non è venuto nella tua vita, anche io oggi ti dico, il regno dei cieli è vicino. Permetti che questo regno entri nella tua vita. Romani 5,17 dice, coloro che ricevono l'abbondanza della grazia, ovvero la salvezza, e il dono della giustizia, regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Cristo Gesù. Noi non solo entriamo in un regno, ma in questo regno regniamo noi stessi. Iniziamo a regnare nella vita. Ora, qui vita in greco è zoe, perché sapete, vita in greco si può tradurre con tre parole diverse. Si può tradurre con bio, psiche e zoe. Qui in questo caso è zoe, che è la vita spirituale, quindi noi regneremo nella vita spirituale, nella vita dello spirito, nel reame dello spirito per mezzo di Cristo Gesù. Quindi Gesù è venuto a portare un regno spirituale nella nostra vita, un regno meraviglioso, dove lui è il centro di questo regno. Lui è il centro, Alessia, qui che commenti su Instagram. se il centro della tua vita è la malattia, la malattia non è la fine del mondo. La malattia non è la fine del mondo. Perché questo regno passeggero, questo è un regno passeggero, di passaggio, è un soffio, ce ne andremo di qui. Ma c'è un regno, al di là di questo regno, dove non c'è più la malattia. Quindi che cosa è più importante? Ricevere guarigione su questa terra o ricevere il guaritore? Ricevere colui che ci dà la salvezza e la possibilità di entrare in quel regno. Noi a volte rifiutiamo Gesù perché vogliamo che Gesù faccia qualcosa per noi. Semplicemente ci serve, ci serve per questo regno. Ma Gesù è venuto a predicare ravvedetevi, pentitevi da questo modo di pensare. Basta, basta con questo regno, togliete gli occhi da questo regno, passate a quel regno, vi sto offrendo qualcosa di migliore. E questo è l'Evangelo del regno. è solo un'introduzione a quella che ho fatta. Ho cercato di motivarvi un pochino per presentarvi l'importanza di quello che sto dicendo perché il regno, il regno, le parabole sul regno, il regno dei cieli vicino, quante volte Gesù predicava sul regno? Quante volte abbiamo sentito le parabole sul regno un po' adattate? La perla di grande valore è Gesù che entra nel tuo cuore, hai trovato il finale? Sì, è vero, è vero, però se dobbiamo essere letterali, Gesù sta parlando del regno e in ogni parabola parla del regno e vogliamo capire che cos'è questo regno. Ma che cos'è questo regno? Che cos'è questo regno? Bene, iniziamo. Iniziamo a studiare la storia del regno di Dio. E adesso ragazzi restate qui collegati in diretta, prendete appunti se volete perché qui scoppieranno i fuochi d'artificio. Qui inizieremo a vedere veramente come la nostra vita verrà sconvolta dopo questa diretta, dopo questo insegnamento. Allora, Dio ha sempre avuto un suo regno fin dall'eternità. Il re per eccellenza. Dio ha avuto il suo regno. Lui è eterno, il suo regno non ha mai avuto inizio né fine. E Dio nel suo amore, pensate un po', Dio l'Eterno, l'Onnipotente, il Creatore, nel suo amore ha deciso di creare un essere l'uomo simile a Lui che potesse, pensate un po', regnare con Lui. Che potesse avere il suo regno. Potesse avere il suo spazio. Potesse avere il suo dominio. Ok? Quindi, che cosa fa Dio? vedete, tutto è iniziato, la Genesi è iniziata a motivo del regno. Dio ha voluto fondare un altro regno e dare quel regno, pensa un po' tu, proprio a te. Proprio a te. Non ci crederai? Genesi 1, 28 E Dio li benedisse. E Dio disse loro siate fruttiferi e moltiplicatevi. Riempite la terra e soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Attenzione, ogni parola che esce dalla bocca di Dio è legge perché è parola di Dio e più legge quella della Costituzione italiana. quando Dio dà una parola quello è un patto che Dio sta facendo è un patto quella è legge e Dio stabilisce quindi una forma di legalità. Sapete una cosa non voglio entrare nello specifico perché ci sarebbe da fare uno studio sui patti però Dio fa ogni cosa Dio si muove in ogni cosa solo per mezzo della legalità. Dio non fa niente che non sia legale che si muove nei termini da lui stabiliti e Dio qui stabilisce dei termini stabilisce una legge con la quale legge Dio dà il dominio della terra pensate un po' non a Dio ripeto Dio dà il dominio della terra non a Dio ma all'uomo all'uomo siate fruttiferi e moltiplicatevi riempite la terra e soggiogatela e dominate sui pesci del mare sugli uccelli del cielo sopra ogni essere vivente Dio dà questo dominio all'uomo e questo spiega tante cose perché quella legge che Dio ha dato come tutte le leggi di Dio sono eterne eterne vuol dire che oggi mentre stiamo respirando dopo 6.000 anni da quella da quella legge quella legge vale ancora cosa legge vale ancora e questo spiega tante cose se iniziamo a leggere la Bibbia bene questo spiega tante cose spiega come mai oggi tanta gente dà colpa a Dio dà la colpa a Dio di quello che succede oh ma che non si capisce niente perché il Signore non interviene quanta povertà che c'è in Africa e quanti stanno morendo di questa malattia brutta ma dove è Dio ma dove è Dio quando si ammazza una vicenda in quella nazione stanno facendo rivolte dove è Dio dove è Dio la parola dice che questa terra doveva essere dominata governata soggiogata dall'uomo e con l'aiuto di Dio l'uomo doveva porre giustizia ordine equità su questa terra se questo non sta accadendo la domanda non è dove è Dio la domanda è dove è l'uomo dove è l'uomo perché tutto ciò che sta accadendo lo vedremo adesso è a causa del peccato noi sappiamo che l'uomo fa lì in tutto questo perché l'uomo scelse non Dio ma scelse il consiglio sbagliato di Satana del nemico e anche qui ci sarebbe da approfondire perché Satana era nell'Eden ma non voglio ovviamente approfondire cose troppo complicate qui abbiamo Satana che inizia a deviare l'uomo a dire guarda non è proprio così tu puoi addirittura diventare come Dio tu puoi ambire di più che questo regno sulla terra l'uomo ci casca fondamentalmente ci casca e cosa è successo da quando l'uomo è caduto pensate un po' Satana che non aveva nessun regno e questo lo voglio sottolineare prima che l'uomo cadesse Satana non aveva nessun regno perché ve l'ho appena detto tutto ciò che avviene deve essere svolto nella legalità siccome Dio non ha dato nessun dominio a Satana poiché Dio non ha dato questo dominio lui non aveva nessun regno legalmente parlando non c'era nessun regno assegnato al diavolo un solo regno c'era a parte quello di Dio il regno dell'uomo e Satana cosa fa ingannando l'uomo usurpa il regno che Dio ha dato all'uomo e come lo usurpa? beh perché l'uomo stesso gliel'ha consegnato Satana ha manipolato l'uomo e l'uomo stesso gliel'ha consegnato il regno ancora oggi abbiamo gente si stanno moltiplicando a macchia d'olio ragazzi che fanno le sette sataniche scelgono liberamente di andare ad adorare Satana fare azioni perverse brutali in nome di Satana scelgono lui che è il padre dell'ingiustizia il padre dell'omicidio il padre della menzogna il padre della povertà della malattia è l'uomo che ha consegnato a Satana tutto questo e Satana oggi da quel momento in poi fino ad oggi lui ha preso ha preso il dominio della terra illegalmente basandosi sull'uomo basandosi su quello che l'uomo gli ha dato ci siamo? quindi l'ha fatto l'ha fatto con questo sotterfugio attenzione ho sbagliato un attimo fa ho detto che Satana l'ha preso illegalmente il regno no lui l'ha preso legalmente perché l'uomo gliel'ha consegnato quindi lui ha dominato tramite un'azione legale perché l'uomo gliel'ha consegnato gliel'ha dato l'uomo nelle sue mani restate collegati perché se capite fin dove voglio arrivare adesso entrate in una mentalità che scatenerà miracoli nella vostra vita credetemi scatenerà i miracoli nella vostra vita ora fino a che venisse Gesù Satana ha preso questo regno su questa terra e il caos è iniziato ad arrivare la malattia è iniziata ad arrivare la morte la distruzione di tutto e di più ci siamo ora Dio ha fatto questo Dio ha detto ad Abramo domina la terra Adamo ha fallito dunque Dio cosa fa piano B facciamo una cosa eliminiamo questa generazione lasciamo Noè che è l'unico che serve me che ha scelto di servire a me e io farò un patto con Noè Dio ha fatto un patto con Noè si chiama il patto Noaico dopo il patto con Adamo e in questo patto Dio indovina cosa dice a Noè indovina cosa dice a Noè quando finisce il diluvio dice Noè tu e i tuoi figli moltiplicatevi e dominate e soggiogate la terra ecco ve la ridò in vostro possesso quindi Dio cosa fa un grande reset a volte quando i telefonini non funzionano l'unico modo per farli funzionare è fare un bel reset spegne e riaccende vero? stessa cosa fa Dio stessa cosa farà Dio fra poco perché sta per arrivare anche qui un grande reset la Bibbia ne parla chiaro quello che sta succedendo a un tempo limitato il regno di Dio sta per giungere fisicamente su questa terra lo vedremo fra poco Dio fece questo grande reset col diluvio il problema qual è stato? che l'uomo ancora una volta con Nimrod con Babele Dio disse spargetevi moltiplicati che questi si metteranno tutti allo stesso posto fece l'esatto contrario iniziarono a fare tutto l'opposto di Dio iniziarono a seguire il diavolo iniziarono a seguire le stelle iniziarono a seguire i demoni ancora una volta Satana usurpa usurpa il dominio che l'uomo aveva avuto su questa terra ancora una volta bene e cosa succede poi? subito dopo Dio dice cambiamo strategia io mi scelgo Abramo adesso e tramite Abramo tramite la sua discendenza io creerò un popolo e perché creerò un popolo? perché attraverso quel popolo io creerò un regno il regno di Israele affinché tutte le nazioni vedendo il regno che mi segue il regno che collabora con me il regno originale che io ho stabilito su questa terra si possa convertire possa finalmente giungere alla pace all'equità alla giustizia di Dio e Dio quindi stabilisce questo patto stabilisce questo patto affinché nel nel seme di Abramo dice la versione King James della Bibbia nel seme di Abramo ci fosse il riscatto dell'umanità il riscatto del regno dell'umanità e questo spiega tante cose non sono chiacchiere amici che sarai ascolta queste sono cose serissime volete sapere una cosa fate due più due perché il diavolo ha sempre tentato di uccidere gli ebrei punto interrogativo la risposta ve l'ho data adesso il seme di Abramo perché in quel seme c'è un patto c'è un patto divino e legale Dio ha detto alla tua discendenza darò il regno alla tua discendenza e il diavolo lo sa ecco perché per tutta l'umanità il diavolo si è accanito contro questi poveri ebrei ma che hanno fatto questi ebrei che ancora oggi c'è l'antisemitismo beh il regno a motivo del regno perché il diavolo sa che c'è scritto che a voi apparterrà il regno e noi insieme a loro perché noi rientriamo e lo vedremo fra poco nel regno del popolo di Israele e nel seme di Abramo e il diavolo ha cercato di distruggere Israele vi ricordate Esau che insegue Giacobbe lo vuole uccidere e poi il faraone in Egitto cosa vuole fare il faraone in Egitto distruggere tutti i primogeniti chissà perché vuole distruggere questi primogeniti chissà perché Amman nel libro di Esther vuole distruggere tutto il popolo di Israele chissà perché il re Erode quando seppe che il re stava nascendo finalmente si mette ad ammazzare tutti i bambini di Betlemme chissà perché Adolf Hitler non dobbiamo andare chissà quanti millenni Adolf Hitler o altri nella storia dell'umanità hanno tentato di distruggere gli ebrei e ancora oggi ci provano chissà perché e beh c'è qualcuno che aizza queste persone il diavolo perché se lui riesce a distruggere il seme di Abramo riesce a distruggere la promessa di Dio ma grazie a Dio che Dio non l'ha mai permesso e sta arrivando il regno di Dio sta arrivando il regno di Dio nella nostra vita anzi quel regno è già arrivato quel regno perché quando Gesù venne quando Gesù venne iniziò a predicare il regno e cosa disse l'abbiamo appena letto ravvedetevi il regno di Dio è vicino è vicino non disse è arrivato disse è vicino perché sarebbe arrivato quel regno quando Gesù sarebbe morto ci siamo Gesù disse iniziate a ravvedervi perché sta arrivando questo regno tramite la mia morte sta arrivando questo regno e perché è arrivato tramite la morte di Gesù il regno perché Gesù in forma di uomo da uomo fattosi carne d'uomo ricordate che l'uomo doveva dominare la terra Gesù quindi si è fatto uomo ok in forma di uomo si è sacrificato per tutti gli uomini che avrebbero accettato il suo sacrificio si è sacrificato per tutti gli uomini che avrebbero voluto far parte di quel regno per noi in modo tale che presentandosi davanti a Dio Dio vedesse la sua perfezione la sua innocenza perché lui è stato l'unico uomo che non ha mai peccato l'unico uomo che non ha mai dato legalmente il diritto a Satana di regnare sulla sua vita e per questo motivo lui ha offerto un'offerta perfetta per noi un'offerta di riscatto perfetta attraverso la quale noi oggi riacquistiamo in lui il regno riacquistiamo in lui il regno avete capito quello che ho detto Gesù è morto ed è risorto per riconsegnarci il regno quel regno che era perduto l'ha fatto da uomo proprio perché l'uomo potesse ridominare sulla creazione e questo è meraviglioso perché questo ci dice amici belli ci dice questo qui che oggi Satana adesso che sto parlando Satana ha un governo illegale pronunciato dalla bocca di Dio come illegale non ha più la legalità di agire non ha più la legalità di dominare non ha più la legalità di dominare la tua vita non ha più la legalità di infliggere la tua vita non ha più la legalità di mandarti all'inferno la sua legalità è stata tolta e tu in Cristo Gesù hai la legalità di prendere con la forza il suo regno oggi c'è una battaglia in corso nel mondo spirituale noi non lo vediamo ma c'è una battaglia che va avanti 24 ore su 24 e noi siamo l'esercito che è conquistatore siamo l'esercito che avanza e Satana è l'esercito che retrocede il problema è che noi non entriamo nella mentalità del regno non vediamo tutto con l'occhio del regno con la mentalità del regno stiamo pensando a noi stessi stiamo pensando ai nostri problemi come migliorare la nostra vita no no si tratta di regno si tratta che siamo soldati di Cristo dobbiamo combattere dobbiamo avanzare Colossesi 1.13 poiché egli Gesù ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio noi ci siamo già in quel regno Gesù ha portato un regno spirituale prima un regno spirituale e lui porterà Gesù è venuto la prima volta per portare un regno spirituale e tornerà una seconda volta lui sta tornando per portare un regno fisico un regno materiale proprio su questa terra adesso è spirituale e perché è spirituale? uno potrebbe dire è sempre cose spirituali è sempre cose invisibili no 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 ascoltate ascoltate tutto parte prima dallo spirituale per diventare materiale le leggi di questo mondo dell'universo intero funzionano così prima viene lo spirituale e poi il materiale tutto deve prima crearsi e originarsi nello spirituale e poi viene il materiale ecco perché Gesù fa tutto con ordine lo vedremo Dio è un Dio di ordine lo vedremo in queste dirette e prima ha iniziato dallo spirituale ha tolto la legalità a Satana Silvana dice noi siamo seduti nei luoghi celesti regniamo già nello spirito noi siamo seduti in quel regno e stiamo regnando anche se non lo vediamo quindi inizia tutto nello spirituale e poi si manifesta nel materiale e Gesù iniziò a portare delle manifestazioni materiali di questo regno iniziò a mostrare le prime evidenze che il regno di Dio si stava manifestando vi chiedo a voi adesso quali sono queste evidenze qual è l'evidenza che possiamo vedere oggi in questo mondo che il regno di Dio sta avanzando che il regno di Dio c'è non so se mi sono spiegato bene cioè ci sono delle cose che avvengono ok che ci fanno chiaramente capire in quel caso che c'è un regno che noi portiamo che vive dentro di noi e che conquista il regno di Satana cioè ci sono degli episodi vero? io no? vedete le testimonianze a volte su questa pagina vi sto dando degli indizi di cosa sto parlando c'è una cosa proprio chiara chiara che vi fa vedere che il regno di Dio si muove in mezzo a noi allora Lori dice guarigioni prodigi miracoli ci siamo è vero è vero ma c'è proprio una cosa un miracolo specifico mettiamola così c'è un segno specifico ok Yasser la potenza dello spirito lo spirito santo le conversioni Rosaria c'è arrivata Rosaria le liberazioni le liberazioni le liberazioni sono il segno evidente proprio c'è proprio il segno che evidenzia il fatto che c'è il regno le liberazioni quando mi presentano una persona posseduta io vado a pregare per la liberazione che cosa succede il demone che c'è dentro inizia a gridare inizia a manifestarsi la persona perché? perché è arrivato un altro regno e lui lo sa fin quando tu la persona la tratti così oh preghiamo il signore che il signore intervenga tutto a posto quando tu inizi a prendere autorità io nel nome di Gesù sono qui per il regno e dichiaro e comando che tu satana che sei lì illegalmente esci fuori da questa persona iniziano i demoni perché? perché quello che vi ho detto amici non sono chiacchiere non è la favoletta non è la teologia sono cose pratiche nel mondo spirituale questi fenomeni esistono e dovete praticarli anche voi dovete viverli anche voi il segno più evidente è la liberazione dei demoni ecco perché Gesù disse Matteo 12,28 se io scaccio i demoni per mezzo dello spirito di Dio allora il regno di Dio è giunto in mezzo a voi Gesù sta dicendo vedete l'evidenza c'è un regno spirituale e vedete come si manifesta anche nel mondo fisico adesso perché i demoni vengono cacciati queste cose non tanto si vedono perché? perché non stiamo regnando non stiamo regnando ecco perché la diretta regnare nella vita ed ecco perché questa diretta se riusciamo a finirla oggi altrimenti continueremo la prossima volta questa diretta ci prepara a amministrare la liberazione sui demoni prima di poter parlare sulla liberazione come essere liberati come liberare è importante che capiamo il regno altrimenti non riusciamo a muoverci bene nella liberazione questo è fondamentale capire i discorsi sul regno ok quindi c'è prima questo regno spirituale e poi c'è un regno fisico un regno fisico che Gesù sta portando Gesù disse vi accorgerete quando il regno di Dio sta per venire su questa terra dei segni degli ultimi tempi epidemie guerre carestie non quello che sta succedendo quello che sta avvenendo è l'inizio Gesù parla di doglie del parto come una donna che sta per partorire sta per nascere per partorire questo regno sta per venire il regno di Dio Gesù sta tornando amici che state ascoltando e ancora una volta noi dobbiamo tornare a predicare rabbedetevi il regno dei cieli alle porte rabbedetevi scegliete dove volete vivere scegliete come volete vivere scegliete cosa fare della vostra vita perché la cosa si fa seria c'è un regno e dovete dar conto al regno che sta arrivando dovete dar conto al re che sta arrivando ci siamo quindi dobbiamo acquisire questa mentalità del regno perché Gesù tornerà per stabilire un regno fisico e questo ci deve entusiasmare è meraviglioso sapete noi abbiamo preso in giro alcune persone prendono tanto in giro i testimoni di Geova perché hanno questa mentalità oh quella casa sarà mia quando Gesù tornerà quella casa sarà mia perché noi diciamo beh sono proprio nell'errore perché noi saremo in cielo questa terra non ci apparterà più beh non è che hanno proprio tutti i torti in questo caso i testimoni di Geova perché noi domineremo un regno spirituale noi vivremo in un regno spirituale e domineremo un regno fisico la terra cioè Gesù riporterà il regno e chi dominerà con Gesù se non noi la Bibbia è chiara noi domineremo su questa terra con Gesù per mille anni il regno millenario ne parla la Bibbia per mille anni Gesù regnerà Gerusalemme riporterà il regno Israele e tutte le nazioni vedranno la giustizia che c'è nel regno di Dio come si governa la terra sapete la Bibbia parla di cose incredibili parlerà del del lupo che pascerà con l'agnello non ci saranno guerre dice la Bibbia che delle armi ne faranno delle attrezze da lavoro parla di cose meravigliose la Bibbia la Bibbia parla pensate in Ezechiele 38 un libro scritto migliaia e migliaia di anni fa parla di un tempio che sarà costruito per Dio a Gerusalemme e sono stati fatti è stata fatta un'analisi sapete che tutto ciò che è scritto di quel tempio le misure i materiali le forme sono state messe al computer e il computer ha ricreato questo tempio ha creato come questo tempio sarà le forme le strutture ed è stato visto che questa struttura architettonica può essere realizzata soltanto da strumentazioni che sono presente nella nostra epoca cioè la forma è così particolare di questo edificio così grande così enorme che nessuno all'epoca della Bibbia poteva creare né immaginare una struttura del genere quanto la Bibbia è perfetta è qualcosa di straordinario pensate cosa ci sarà in questo regno millenario non ci sarà la malattia non ci sarà più la povertà non ci sarà più l'ingiustizia sta arrivando questo regno fisico per ora è un regno spirituale è un regno spirituale ma niente di meno ragazzi non è che abbiamo detto chiacchiere cioè stiamo dicendo che noi regniamo con Dio ma ci rendiamo conto noi regniamo con Dio c'è un regno nella nostra vita è un qualcosa di meraviglioso noi dobbiamo entrare in questa mentalità del regno e per entrare in questa mentalità iniziamo a vedere dai iniziamo a vedere come un regno è formato da cosa è formato un regno numero uno innanzitutto un regno è formato da un re un regno non è un re non è un regno se non c'è un re ripeto un regno non è tale se non c'è un re il regno non è una repubblica Gesù non è venuto a formare la repubblica cristiana la democrazia cristiana Gesù è venuto a formare il regno a portare il regno Dio non è un repubblicano non è un democratico Dio è un monarchico e cosa è meglio secondo voi che mille persone si radunano tutte insieme e apriamo le scuole chiudiamo le scuole facciamo il vaccino no non facciamo il vaccino facciamo il tampone mettiamo la mascherina togliamola e non si capisce niente no ci sarà un unico re che regnerà con giustizia con equità con rettitudine con perfezione perché lui è la giustizia fatta persona immaginate che cosa ci sarà in quel periodo è la bellezza di tutto questo è che Dio non regnerà da solo Gesù non regnerà da solo che lui ci ha dato il regno anche noi l'abbiamo visto e la Bibbia dice in diversi passaggi che noi siamo che cosa siamo sacerdoti e re noi siamo un real sacerdozio a Dio è piaciuto di darci il regno dice la Bibbia ok noi regneremo con Gesù per mille anni pensate un po' e a voglia pensare che ne sarà domani chissà se un giorno riuscirò a laurearmi chissà se un giorno riuscirò a prendere quel lavoro chissà se un giorno il Signore mi darà la possibilità di farmi quella bella casa ma che te ne importa che te ne importa di questo soffio che volerà via di questa vita dicevo ad Alessia sta arrivando un regno eterno tu per l'eternità regnerai con Gesù cioè ci rendiamo conto altro che Joe Biden in America l'uomo più potente del mondo il presidente degli Stati Uniti ce ne faremo un baffo degli Stati Uniti d'America quando noi leggiamo le parabole quelle sono letterali quando Gesù disse bene hai fatto fedele servitore mi sei stato fedele su dieci talenti su dieci anime hai portato dieci anime nel mio regno eccoti io ti do dieci città su cui governare lì Gesù non scherza Gesù non è uno che scherza Gesù ha detto che vi darà dieci città vi darà dieci città su cui governare ecco perché quel discorso non è che sia tanto sbagliato ma ci rendiamo conto cioè dobbiamo entrare in questa in questa mentalità siamo re figli di re siamo re pure noi rendiamo con Gesù Cristo siamo eredi e coeredi di Cristo Gesù dice la Bibbia c'è la stessa eredità che Gesù ha nei cieli ci appartiene questa è la buona notizia l'Evangelo del Regno e questo è meraviglioso questo vi fa cambiare la mentalità perché quando voi andate in un ufficio andate a scuola andate di fronte alle istituzioni andate in qualsiasi luogo non dovete andare a testa bassa come li immaginate come i pazzi come no 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 tu sei un figlio del Regno sei re con Gesù Cristo altro che Joe Biden altro che Mario Draghi che ve ne dovete fare di Mario Draghi vi rendete conto sta passando un figlio di Dio e quando un figlio di Dio passa nel mondo spirituale l'inferno trema perché lui è stato spodestato Satana è stato spodestato Colossesi 2.13 dice Gesù l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce avendo spogliato le potestà e i principati ne ha fatto un pubblico spettacolo trioffando su di loro in Cristo Gesù Satana è stato spodestato quello che lui lo fa lo fa con gente ignorante ma gente che conosce il Regno lui trema trema di fronte alla presenza di Dio ecco che i demoni si manifestano perché c'è il Regno di Dio dentro di voi c'è un esercito che sta marciando e sta conquistando territori e dobbiamo entrare in questa mentalità in questa mentalità io voglio regnare con te Gesù io voglio portare il tuo Regno su questa terra io voglio strappare anima al Regno di Satana e portarla nel tuo Regno Gesù e questa è la mentalità ogni volta che un malato viene guarito tu stai regnando perché la Bibbia dice padre la tua volontà sia fatta in terra come è fatta in cielo e in cielo non ci sono malati quindi nel momento in cui tu guarisci un ammalato cosa stai facendo stai portando il Regno di Dio sulla terra ogni volta che tu liberi da un demone cosa stai facendo in cielo non ci sono indemoniati stai portando il Regno di Dio sulla terra e noi dobbiamo regnare invece no andiamo in chiesa e ci sentiamo le belle predigucce domani realizzerai i tuoi sogni forza oggi è andata male domani andrà meglio forza abbi fede il Signore ti dice quest'anno sarà l'anno della svolta non è questo il Vangelo non è questo il Vangelo è concretezza la svolta l'avrai domani stesso se applichi questi concetti questo è il segreto questo è il segreto queste sono le vere predicazioni amè quindi numero due abbiamo visto un Regno è fatto da un Re numero due è fatto da un territorio qualsiasi Regno ha un territorio beh qual è questo territorio il Regno di Dio ha due territori numero uno ha un territorio spirituale nel mondo spirituale ogni volta che noi entriamo in una città evangelizziamo una città che stiamo guadagnando territorio spirituale la Bibbia dice chiaramente che in ogni nazione in ogni paese ogni continente ci sono dei demoni chiamiamoli demoni non sono demoni sono potestà l'abbiamo appena letto sono principati demoniaci satanici che regnano e quando tu porti un paese a Cristo quando tu porti una casa hai conquistato territorio quando tu porti un quartiere hai conquistato territorio quando porti un paese hai conquistato territorio nel Regno quando tu porti una nazione hai conquistato territorio ci sono uomini che hanno portato un'azione a Cristo studiatevi generali di Dio queste cose sono accadute succedono ancora oggi ci sono territori che stanno passando sotto il dominio di Cristo l'Iran la Cina l'India voi non sapete quello che sta succedendo di nascosto i cristiani che lavoro stanno facendo lì e invece qui noi stiamo belli a sentire le prediche motivazionali motivazionali le prediche sui sogni è il momento di smettere di sognare e svegliarci un pochino ragazzi dobbiamo svegliarci dai sogni perché altrimenti Dio ce ne chiederà un conto ce ne chiederà conto Dio un giorno cioè con Dio non si scherza questo sia chiaro deve tornare il timore di Dio Dio ci chiederà e ti racconto ma che cosa hai fatto della tua vita io ti ho dato un regno ti ho fatto un re su questa terra che ne hai fatto del tuo regno che ne hai fatto del tuo dominio vogliamo prendere questo regno seriamente amè quindi c'è un regno spirituale un territorio spirituale un territorio fisico anche oggi c'è Dio l'ha ricostituito pensate un po' nel 1948 lo stato di Israele lo stato di Israele vi ricordate la guerra dei sei giorni ci hanno provato in tutti i modi a distruggere Israele tutte le nazioni vicine le probabilità di vittoria di Israele erano zero durante quella guerra e Dio sbaragliò tutti i nemici perché quello era il regno che lui ha stabilito e un giorno Israele si convertirà a Dio a Gesù accetterà Gesù e il regno sarà ricostituito completamente come Dio aveva promesso fino ad Abramo poi numero tre un regno è fatto anche di servitori chi sono questi servitori nel regno? sono gli angeli e siamo noi innanzitutto gli angeli gli angeli sono coloro che si muovono nel regno spirituale nel regno di Dio vi racconto un'esperienza così vi posso anche motivare un po' Mary sa questa esperienza pregando e pregando e pregando cercando la faccia di Dio nella preghiera mi capitava quasi sempre spesse volte che dopo la preghiera il mio spirito era molto sensibile diciamo era ipersensibile perché dopo che preghi il tuo spirito si accende le facoltà spirituali del tuo essere iniziano a manifestarsi iniziano ad accendersi noi non siamo esseri con cinque sensi e basta noi abbiamo anche facoltà spirituali ok? sono cose che noi non riusciamo ad accedere il reame dello spirito così semplicemente perché vogliamo noi accediamo tramite la preghiera tramite la bibbia queste sono le porte che Dio ci dà per accedere in quel reame e la preghiera era uno di questi infatti dopo che finimo di pregare io vedevo delle luci di queste dimensioni delle sfere a volte più grandi a volte figure vere e proprie camminare nella stanza nel corridoio venire in questa direzione di vari colori diversi e io ho capito subito anche perché me lo confermò il signore tramite un'altra persona che erano angeli e disse ma vedi un po' sto iniziando a vedere perché intorno a noi ci sono angeli intorno a noi voi non avete idea la bibbia dice angeli sono accampati intorno a quelli che temono Dio e io feci una richiesta disse signore mamma mia ma quanto vorrei quanto vorrei signore che tu mi mostrassi queste palline mi facessi vedere che cosa c'è com'è fatto un angelo com'è questa realtà e beh quella notte vi dico che quella notte mi sveglio e vedi un essere altissimo altissimo dietro venimo da dietro di lui una luce blu si irradiava era una cosa agghiacciante infatti avevi paura e perché ovviamente è una manifestazione soprannaturale il suo volto era chiaro pelle chiara i suoi occhi blu intensi azzurri intensi capelli biondi fino a qui una corazza argentata sul petto e una veste bianca una figura il cui volto sapete nel volto c'era una tale autorità agghiacciante sapete come quei generali sapete quei generali dell'esercito vecchio stampo che hanno fatto la guerra con quel volto che tu soltanto a guardarli te la fai sotto perché così ragazzi ma cento volte di più cento volte c'è un'autorità nel suo volto c'era un'autorità era qualcosa di incredibile incredibile e io mi svegliai e capì capì che cosa stavo vedendo e dissi signore guarda tu mi hai anche se udito qualcuno ha detto anche il nome di quell'angelo ma non voglio non voglio dirlo perché certe esperienze forse non è sono belle perché vi motivano ecco sono belle perché vi spingono a cercare perché tutti voi potete fare queste esperienze se pensate a Dio se pensate a consacrarvi a cercare la sua presenza voi le vedrete queste cose e e io ebbi queste esperienze e capì da quel giorno che intorno a me ci sono angeli c'è un esercito c'è un esercito spirituale sono i servitori di Dio gli angeli quando voi pregate nel regno spirituale si stanno muovendo angeli guerre stanno avvenendo in corso battaglie stanno avvinte quando tu non vedi niente ti lamenti ti scoraggi non preghiamo più non succede niente continua l'abbiamo visto nella diretta di intercessione perché cose stanno avvenendo nel mondo spirituale fenomeni stanno avvenendo nel mondo spirituale tu non li vedi ma qualcosa sta succedendo ecco perché la preghiera pregate 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 perché la preghiera è un accesso al regno ok allora quindi c'è un esercito anche numero 4 c'è un esercito ci sono questi angeli ma ci siamo anche noi anche noi siamo l'esercito di Dio noi siamo soldati di Cristo dice Paolo e rispondo a Daniel che mi ha scritto qui Daniel in questo momento quando tu vai da un indemoniato e queste cose ci sono ehi ma bisogna vedere ehi che cosa devi vedere se ti mettono di fronte un indemoniato e ti dice le cose della Bibbia come fa? uno che non ha mai detto la Bibbia in vita sua e ha paura di Gesù Cristo e viene cacciato nel nome di Gesù Cristo beh dimmi con la tua scienza che cos'è questo fenomeno? il regno di Dio è un regno che esiste veramente ci sono eserciti eserciti del male eserciti del bene che si scontrano e sei tu sei tu perché il regno è salodato a te sei tu che metti in movimento queste dinamiche spirituali io mi auguro che possiamo fare un incontro un giorno dove ci esercitiamo sulla liberazione sulla guarigione e iniziamo a mettere in pratica perché Gesù era un tipo pratico Gesù non era teoria Gesù non era solo diretta Gesù era pratica bisogna praticare certe cose per capire per vedere sperimentare ci sono eserciti ci sono eserciti spirituali in questo regno numero 5 questo regno è una capitale il suo nome è Gerusalemme c'è una Gerusalemme celeste e una Gerusalemme terrena un giorno la Bibbia dice che quella celeste si incontrerà con quella terrena diverranno una sola cosa scenderà dal cielo ci siamo e ci sarà una capitale quella capitale Gerusalemme la città di Gerusalemme noi apparteniamo alla Gerusalemme celeste numero 6 ci sono delle leggi come qualsiasi regno ci sono delle leggi nel regno di Dio ci sono delle delle leggi quelle leggi sono porci l'altra guancia non ricambiare il male ricambiare con il male ricambiare con il bene non commettere adulterio non dire falsa testimonianza ci sono delle leggi spirituali e quindi Gesù disse pentitevi ravvedetevi cambiate modo di vivere cambiate le vostre leggi adeguatevi alle leggi di Dio cambiate il vostro stile di vita seguire Gesù significa cambiare il nostro stile di vita Billy Graham diceva la croce è odiata tanto perché ti impone di cambiare vita quindi ci sono delle nuove leggi spirituali io fa tutto con ordine l'abbiamo visto io fa tutto nella legalità e tu entri in quel sistema di giustizia di santità di perfezione e numero 7 ci sono delle autorità in tutti i regni ci sono delle autorità nel regno di Dio ci sono pensate un po' autorità Dio ha stabilito autorità nella sua chiesa voi siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti poi ci sono gli insegnanti ci sono i dottori ci sono ci sono i pastori ci sono gli evangelisti cioè c'è un sistema in poche parole ok non un sistema religioso ma un sistema d'ordine ci sono delle autorità che Dio ha stabilito con diversi compiti affinché tutto avvenga nell'ordine Dio è un Dio di ordine non fa niente con disordine dico questo perché stanno sorgendo dei movimenti ultimamente che stanno portando delle grandi verità evangeliche tipo uscire in mezzo alla strada convertire portare le guarigioni le liberazioni e questo è biblico e fanno bene a predicare questo però come sempre ogni movimento ogni dottrina se portata all'estremo crea dei danni e in questo caso si sta proprio rinnegando l'utilità di una chiesa di un locale di culto che sia una casa che sia un edificio comunque di una chiesa fisica si sta rinnegando l'importanza dei ruoli del rispetto dell'autorità che ci sono che Dio ha preposte autorità che non sono despoti attenzione questo l'ho sempre detto chi mi segue da tempo lo sa le autorità non sono dei despoti le autorità bibliche non sono dei dittatori sono autorità che ti supportano se tu vuoi entrare nel regno di Dio devi interfacciarti con delle autorità e queste autorità ti supportano nel regno ti portano avanti nel regno beh quale esempio Paolo con Timoteo chi ha portato avanti Timoteo? Paolo Paolo ha visto che valeva questo ragazzo l'ha portato avanti l'ha cresciuto con lui l'ha educato gli ha dato spazio gli ha dato possibilità di ministrare con lui fin quando non ha preso la sua autonomia fin quando è cresciuto stessa cosa con Elie e Eliseo Elie ha accompagnato Eliseo tutto il tempo fino a oltrepassare il Giordano mentre gli altri pensavano a fare altro stessa cosa con Mosè e Giosuè Dio disse a Mosè sali tu sul monte solo tu però Giosuè volette stare anche lui e Mosè non ha detto vai giù non è più posto per te questo qua Giosuè torna a mamma e papà no Mosè se l'ha portato con sé ha fatto crescere questo figliolo l'ha portato avanti se voi volete muorervi nel regno di Dio Dio aprirà delle porte e in queste porte spirituali in questi luoghi spirituali in queste chiese che il Signore vi darà vi darà la possibilità di agire vi supporterà il Signore perché il regno è ordinato Dio si muove con ordine si muove nella legalità si muove nelle autorità autorità che ti supportano che ti portano avanti o gli fai il revolution non è soltanto l'iniziativa mia che è così insomma facciamo delle dirette tutti i fratelli di Dio i servi di Dio che mi contattano mi chiedono Francesco ma tu a che cosa fai riferimento a quale chiesa fai riferimento beh dietro questo muro c'è una chiesa ok siamo sotto delle autorità spirituali non ci sogniamo come questi movimenti che stanno sorgendo adesso di fare tutto di testa nostra dai su forza non hai bisogno di nessuno non funziona così ripeto autorità che ti supportano autorità che ti fanno crescere autorità che ti portano avanti non ti mettono i bastoni fra le ruote non hanno invidia non hanno gelosia perché queste cose possono accadere ma Dio aprirà le porte affinché tu possa crescere nel regno muoverti nel regno secondo il suo ordine il suo processo e ne abbiamo parlato tante volte nelle nostre dirette di questo una persona che è ribelle all'autorità che non vuole stare sotto nessuna autorità gli dà fastidio soltanto il pensiero che una persona possa stare con lei come autorità questa persona non vedrà il regno di Dio nella sua vita perché il regno di Dio è un regno di ordine e si muove con delle autorità amen tra poco concludiamo questi punti e concludiamo anche la diretta e leggerò qualche commento va bene sto cercando di andare il più veloce possibile numero 8 un regno è fatto di ambasciatori e noi siamo questi ambasciatori dice la Bibbia voi siete ambasciatori per Cristo quindi noi in qualità di ambasciatori che cosa facciamo? portiamo il regno di Dio presentiamo il regno di Dio a questo mondo ci siamo? noi andiamo in questo sistema in questo regno come ambasciatori e cerchiamo di portare anime da questa parte del regno facciamo la nostra ambasciata predicando il Vangelo ecco che ogni anima che viene a Cristo è un territorio spirituale conquistato e l'importanza quindi di evangelizzare è capillare è importantissimo va bene numero 9 c'è una frontiera in qualsiasi regno c'è una frontiera c'è un valico se tu vai di qui in Svizzera oppure in paesi che sono fuori dall'Unione Europea come una volta c'è una frontiera va bene tu devi passare la frontiera devi passare dall'altra parte perciò Gesù disserrà vedetevi cioè cambiate vita decidete di cambiare vita e passare dall'altra parte e questo passaggio si chiama la nuova nascita Dio vi metterà vi metterà in voi lo spirito suo santo che vi farà rinascere vi darà finalmente quel regno che porterà pace gioia giustizia nel vostro cuore e sarete sazi finalmente sarete gioiosi finalmente avrete pace avrete valicato la frontiera del regno semplicemente dovete ravvedervi cambiare direzione abbandonare la vecchia vita e seguire Gesù niente di più semplice numero 10 infine in un regno è fatto di cittadini Filippesi 3,20 la nostra cittadinanza infatti è nei cieli da dove aspettiamo pure il Salvatore il Signore Gesù Cristo siamo cittadini dei cieli la domanda che ti voglio fare questa sera vuoi far parte di questo regno? vuoi passare la frontiera? se ti stai rendendo conto di vivere per te stesso invece di godarti il regno invece di avere quel regno che vive dentro di te Gesù dice il regno di Dio è dentro di voi è giustizia pace gioia nello Spirito Santo se questo ti manca questa sera forse sei soltanto un religioso non hai fatto un'esperienza concreta con Gesù ti manca tutto questo stai frequentando una chiesa ma ti manca una vera relazione con Dio non sei entrato nel regno e cosa devi fare? ravvediti ripeto ravvedersi cambiare vita se abbiamo messo noi stessi al centro pentiamoci signore basta io ti ho chiesto finora signore io ti ho chiesto mille cose da fare fammi questo fammi quest'altro dammi quest'altro signore basta basta di pensare a me stesso basta col mio egoismo se quell'ostacolo sono le nostre tradizioni la nostra religiosità che stai seguendo una chiesa la chiesa queste cose non te le predica o vuoi seguire Gesù o vuoi seguire le leggi del regno o vuoi seguire come funziona quel sistema lì l'ordine di Dio allora se ti rendi conto che finora sei stato un religioso è il caso di pentirti delle tue tradizioni delle tue credenze di iniziare a leggere questa vedere cosa dice questa cosa c'è di diverso tra questa e la chiesa istituzionale ognuno di noi ha qualcosa da lasciare Gesù disse ravedetevi lasciate indietro tutto ciò che non appartiene a quel regno basta fate le valigie Abramo fece le valigie Abramo vai via forza lascia lascia dove vieni lascia la tua tradizione basta ti sto chiamando ad avere una relazione con me ti sto chiamando ad un regno Dio ti sta dando un regno questa sera Dio ti sta dando un regno vuoi farne parte a te la scelta te la scelta un giorno darei conto a Dio però la scelta Dio te la dà va bene questa sera scegli di dare tutto a Gesù prega con me in questo momento questa preghiera non può certamente salvarti ma se tu la fai con tutto il cuore io ti assicuro che lo Spirito Santo da stasera verrà nella tua vita e inizierà a portare il regno nel tuo cuore ripeti dopo di me Signore Gesù io scelgo di valicare la frontiera io scelgo di entrare nel tuo regno Signore voglio uscire dal mio regno dal mio egoismo dove io domino tutto Signore voglio uscire dal regno del peccato voglio uscire dal regno di Satana prendimi nel tuo regno Gesù io questa sera lascio i miei peccati davanti a te lascio le mie tradizioni lascio la mia religione e abbraccio la relazione che tu sei venuto a stabilire con me Signore io credo che alla croce tu hai pagato per i miei peccati e hai offerto salvezza gratuita per me Signore io accetto nel mio cuore la tua grazia rendimi un figlio del regno permetti che il tuo regno entri dentro di me nel nome di Gesù te lo chiedo Amen grazie Gesù benedetto se vuoi approfondire questo concetto se vuoi approfondire come avere una relazione con Dio se hai sentito la presenza di Dio mentre pregavi scrivici scrivici subito dopo questa diretta saremo lieti di entrare in contatto con te e fatti sperimentare il regno di Dio nella tua vita